In questo nuovo video, oggi è il 25 dicembre e vi voglio fare gli auguri di buon natale a tutti Vi auguri, passatelo con la vostra famiglia, con i vostri amici più cari, con i parenti più stretti Mangiate tanto, che tanto al cerone di natale si mangia tantissimo E nulla, vi voglio solo dire che questi due giorni sto anch'io con la mia famiglia Quindi non troverete i video, non usciranno i video, usciranno forse il 27, il 28, nulla Quindi video molto easy per farvi gli auguri di natale, vi ringrazio di tutto, passatelo bene E mangiate tutto, fatemi sapere dove andate a farlo, il natale, ecco molto importante, dove andate a fare il natale E per un minutino io ho parlato, direi che vi ringrazio di tutto, buon natale e godetevi E fatemi sapere i regali che avete trovato sotto l'albero, mi raccomando Ecco i regali che avete trovato sotto l'albero, mi interessa Ci vediamo, buon natale a tutti davvero